Beppe Marotta ha fatto dichiarazioni impressionanti questa mattina a Radio Anch'io lo Sport. L'Inter si avvicina alla fine della stagione, che culminerà con l'attesissima finale di Champions League del 10 giugno. Ciao interisti, benvenuti ad un'altra notizia dalla nostra amata Inter. Iscriviti al canale per non perderti nessuna notizia dai nerazzurri da queste parti. Andiamo! Ecco cosa ha affrontato il DG dell'Inter su ogni argomento, in modo convincente e persuasivo. Marotta ha parlato della finale contro il Manchester City. Nello sport dobbiamo affrontare ogni sfida fino alla fine. Abbiamo enorme rispetto e ammirazione per il City, che è un colosso sia in termini finanziari che di potenzialità tecniche. Siamo però pronti ad affrontare un avversario più forte, grazie alla nostra motivazione, fedeltà alla maglia e alla nostra impeccabile organizzazione tattica. Sabato ha parlato anche di Inter Atalanta. Siamo colpiti dal peso dei diritti di trasmissione, che rappresentano un valore considerevole. Giocare tre partite in sei giorni mette a rischio la sicurezza dei giocatori. Mentre le emittenti televisive sono focalizzate sul pubblico, dobbiamo trovare un giusto equilibrio. Metti mi piace al video per restare informato sulle novità dell'Inter. Il Manchester City raggiunge Real Madrid e Barcellona nella finale di Champions League con la Juve. Contro la Juventus, ci troviamo di fronte a una forza calcistica, proprio come lo erano Barcellona e Real Madrid ai loro tempi. Il City è diventato una potenza nel calcio oggi, con un fatturato di quasi 800 milioni di euro. Ciò conferisce loro un enorme potere finanziario. Hanno alcuni dei migliori giocatori d'Europa. Tuttavia, è proprio questa situazione che ci motiva ad essere in questa finale. La spina dorsale della squadra italiana. Credo che questa sia la strada da seguire. Valorizzare il prodotto italiano è un dovere. Abbiamo grandi valori in giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti. Gli investimenti più importanti si fanno nei centri di formazione. Quindi è fondamentale rafforzare il rapporto tra federazione e club, affinché i talenti italiani possano competere ad armi pari con quelli europei. Frattesi e Scalvini sono nomi di spicco dell'Inter. Viviamo in un'epoca di globalizzazione, quindi la ricerca di talenti e il reclutamento devono essere fatti anche a livello europeo e globale. Tuttavia è importante sottolineare che il calcio italiano ha valori di alto livello. Frattesi e Scalvini sono molto interessanti, ma anche altri. Ieri abbiamo visto un'ottima prestazione dell'Italia Under 20. Questi giocatori sono accompagnati da grandi club e non nego che siamo attenti gli uni agli altri. Quindi bisogna trovare un accordo e, a momento, siamo in un piccolo cieco. Cosa ne pensi delle risposte di Marotta? Commenta qui sotto!